Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. Sulla variante di valico della 1 per lavori di ordinaria manutenzione degli impianti di illuminazione, domani notte in orario 22.06 sarà chiusa all'entrata di Firenzuola in direzione Roma. In A11 nelle due notti di mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio in orario 22.06 sarà chiuso lo svincolo di Montecatini in uscita per chi proviene da Pisa. Spostandoci sulla FIPILI per attività di ripristino delle barriere incidentate, domani in orario 9.15 sarà chiusa l'entrata di Empoli Centro in direzione Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!